Addio ormai definitivo ed ufficiale per il protagonista di Ballando con le stelle, a poche settimane dalla nuova stagione del talent manca sempre meno all'avvio della prossima edizione di Ballando con le stelle, il talent show che da anni accompagna il sabato sera di Rai una colpi di danza, con protagonisti di spessore e risonanza Millie Carlucci, Screen Rai, Millie Carlucci, sempre padrona di casa della trasmissione, ha annunciato da tempo che vi saranno alcuni cambiamenti in atto con la nuova stagione Uno di questi è stato ufficializzato proprio nelle scorse ore Pare che la stessa Millie abbia avuto una discussione tutt'altro che proficua con uno dei professionisti storici del programma Una rottura tra la Carlucci ed il ballerino che porterà dunque all'addio di quest'ultimo, con effetto immediato Millie Carlucci e Stefano Radei non trovano l'accordo, il ballerino lascia Ballando con le stelle ad annunciarlo è stato Stefano Radei, vale a dire uno dei coach di ballo che da anni compongono il cast professionale di Ballando con le stelle Radei è stato maestro e partner di numerosi personaggi e vi partecipanti al programma L'addio di Radei è uno dei cambiamenti annunciati dunque da Millie Carlucci, anche se la scelta definitiva è arrivata solo poche ore fa Il ballerino e coreografo ha fatto sapere sui social di non aver trovato l'accordo con Millie per restare Stefano Radei, Instagram, dopo dieci anni sarà il primo anno per me senza Ballando Non ci sono state le basi, abbiamo avuto una conversazione con Millie Carlucci e la produzione, ma le combinazioni non funzionavano Stefano Radei è comunque augurato il meglio ai suoi vecchi compagni di avventura Ma non è la prima volta che un ballerino di Ballando con le stelle scelga di rompere con questo programma e passare ad altri progetti Basti pensare a Natalia Titova e Raimondo Todaro, entrambi scippati da amici di Maria De Filippi Non sono note le prossime avventure lavorative di Radei, ma di certo Millie Carlucci dovrà rimpiazzare l'ex maestro di ballo con un nuovo professionista Non resta che attendere l'inizio della nuova stagione dello show per scoprire chi effettivamente sarà tra i protagonisti del sabato sera di Rai 1 E infine, grazie per aver guardato il video Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video